L'importante è fare, far parlare e avvicinare il pubblico sempre di più. Ecco, io nella mia carriera, vedi, io sono qua, ma io ho lavorato e sono felice di essere a Catania, perché ho lavorato tanto a Catania, persino alle ciminiere ho ballato, per cui è bello l'incontro di diversi paesi, diverse città, c'è sempre da imparare, non si è mai come si inizia noi alla scuola, in prima posizione, e siamo sempre in prima posizione, perché poi c'è una responsabilità, anche con noi stessi, il chiedere sempre di più di crescere, di imparare, di avere i maestri, i maestri sono fondamentali. Ecco, la cosa che mi rammarica, devo dire, non in questa occasione naturalmente, ma in generale, che le fondazioni così hanno tolto il ballo, sono rimaste pochi, pochi teatri con la compagnia di ballo, e questo è proprio una cosa che mi fa male, perché io ho portato la danza a tutti, non mi sono mossa comunque sola o con il nome mio, con la celebrità mia, che avevo già, non avrei avuto bisogno di andare nelle piazze a promuovere, però voleva dire promuovere la danza.